Finocchi e patate, una ricetta molto sexy. Benvenuti in Cucina per Te. Oggi prepariamo un delizioso contorno a base di finocchi e patate. Vediamo quali sono gli ingredienti e cuciniamolo insieme. Per quattro persone occorrono 500 g di finocchi, 500 g di patate, olio extravergine d'oliva, rosmarino, uno spicchio d'aglio, sale e pepe. Iniziamo la preparazione dalla pulizia dei finocchi. Dopo averli lavati con acqua corrente, tagliamo la base e i gambi. Dividiamo a metà i finocchi e li affettiamo. Poniamo tutto in un colapasta e sciocchiamo bene. Dopo aver sbucciato e lavato le patate, le dividiamo a metà e le tagliamo a fette. Dovranno essere più sottili dei finocchi. Mettiamo una padella sul fuoco. Versiamo olio quanto basta a coprire il fondo. Uniamo l'aglio e il rosmarino. Lasciamo soffriggere un minuto. Quindi uniamo prima i finocchi e poi le patate. Aggiungiamo il sale e il pepe. Chiudiamo con un coperchio e facciamo cuocere a fuoco basso per circa 20-25 minuti, girando spesso. Il piatto è pronto. Spero che anche questa videoricetta vi sia piaciuta. Mi raccomando, continuate a seguirci sul nostro sito web, ma soprattutto iscrivetevi al nostro canale YouTube. Un saluto e alla prossima videoricetta. Un saluto e al prossimo episodio.